E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video! Io sono Giulia e come avete letto dal titolo questo sarà un video sui miei 5 obiettivi dopo questa quarantena quindi cose che vorrei fare, cose che comunque ho aperto un po' gli occhi in questo periodo di quarantena quindi ho aperto un po' più gli occhi, ho capito tante cose, anche comunque di Scarlett, il percorso che abbiamo fatto il percorso che vorrei iniziare, quindi tante cose e la maggior parte sono comunque elencate in questi 5 obiettivi che vorrei fare e niente, iniziamo! Come primo obiettivo di sicuro è il fatto che comunque adesso è passato un mese da quando sto registrando questo video però non so quando finirà questa quarantena, questo virus può diciamo rallentare quindi non so se passano altri mesi o cose del genere quindi di sicuro rafforzare il rapporto che è andato un po' perso, almeno credo però il rapporto comunque con Scarlett, poter ricominciare in modo diverso anche il mio modo di pormi verso di lei, magari tante volte sono stata troppo aggressiva no, però troppo veloce in certe cose e quindi magari lei tante volte ho notato che non capiva bene quello che volevo diciamo dargli e quindi vorrei comunque scrivermi un po' meglio, fargli capire tante cose e comunque poter stare insieme tranquillamente senza obblighi cose da parte mia e da parte sua quindi niente comunque stare un po' insieme di sicuro cioè penso che se quest'estate possiamo passarla in maneggio penso che ci saranno giorno e notte e almeno posso un po' recuperare il tempo perso al secondo obiettivo ho di sicuro andare o al mare o comunque al lago perché il mio maneggio sta vicino a un lago e perché voglio comunque magari verso l'estate però penso di no perché comunque verso l'estate le spiagge sono aperte quindi cioè dovrebbe essere aperte poi dipende adesso sinceramente non lo so in questa situazione però di sicuro riandare al mare poter di nuovo fare una bella cavalcata sulla spiaggia poter entrare nell'acqua essendo che lei mi piace tantissimo ci si butta proprio e quella volta in cui siamo andate sono andata con lei io ci sono andata due volte una volta con un'altra cavalla e una volta insieme a lei e quella volta è andata tantissimo cioè lei mi piaceva tantissimo l'acqua beh inizialmente magari era un po' mi sfuggiva un pochettino perché aveva paura magari delle onde magari di quella schiuma che crea l'onda e quindi all'inizio era un po' impaurita poi dopo alla fine è entrata tranquillamente anzi si buttava nell'acqua e anche al lago fa la stessa cosa quindi vorrei ricreare questa avventura si può dire avventura? vabbè questa situazione perché è davvero fighissimo soprattutto con lei il terzo obiettivo è lavorare in modo sereno allora io ho capito tante cose in questa quarantena cioè mi ha fatto aprire tantissimo gli occhi ho capito che ho sbagliato tantissime cose con lei e anche il fatto di pensare magari soltanto a me nel senso che pensare tipo vabbè io voglio fare questo percorso e lo faccio però non mi sono messa nei suoi panni a vedere se lei era predisposta a fare questo percorso se lei comunque era serena a iniziare questo percorso non lo sono mai chiesto questa cosa e ho sbagliato tantissimo quindi di questa cosa me ne penso assolutamente però comunque ho aperto gli occhi e me ne sono accorta meno male se no io continuavo così senza comunque vedere lei come sta e tutto il resto quindi lavorare in modo sereno io intendo lavorare senza che lei si agi di soppo come fa sempre lavorare anch'io seneramente perché io voi non sapete ma io a cavallo mi faccio tremila problemi mi prende l'ansia appena qualcosa magari non va come io voglio e appena magari Scarlett magari scappa accelera il passo cose del genere o comunque non fa una cosa che io gli sto chiedendo mi viene mi sale l'ansia e io mi arrabbio con me stessa e tante volte mi attacco anche un po' lei quindi mi incavolo assolutamente mi arrabbio tantissimo da quella rabbia comunque sale l'ansia e poi mi vengono tantissimi dubbi tipo ma sto facendo la cosa giusta cose del genere quindi non voglio farmi troppe come posso dire film mentali a dire oddio sto sbagliando cose del genere perché voglio comunque fare un percorso che va bene sia a me che a Scarlett quindi qualcosa di tranquillo che non dà problemi a lei che lei comunque sta serena che non si crea neanche lei film e anche io quindi comunque che siamo bene tutte e due entrambi al quarto obiettivo allora di sicuro non so bene che percorso fare con lei adesso cioè io ho iniziato un percorso inizio estate dell'anno scorso quando ho cambiato maneggio ho iniziato questo percorso vabbè percorso che poi ho iniziato a settembre perché tutta l'estate non l'ho potuto montare essendo che aveva mal di schiena e quindi abbiamo lavorato da terra per togliere questo mal di schiena eccetera eccetera vabbè quell'estate penso che è stata la peggio di tutte e e quindi sono stata comunque abbastanza giù però dopo a settembre abbiamo ricominciato quest'inverno diciamo che non è che sia andata così tanto bene ci sono stati tantissimi bassi e pochi alti quelle volte che magari quella lezione andava bene era tipo una in due mesi e poi vabbè l'inverno la pioggia il brutto tempo io magari non ho un posto oppure poi Scarlett è stata anche male con la zampa di ottobre zuppicava quindi di sicura aveva preso una storta in paddock quindi tipo per due volte la lezione l'abbiamo saltata per vedere se migliorava o faceva altro poi alla fine è andata tutta bene però come ho detto ho preso soltanto una storta quindi aveva bisogno di un attimo di riposo però io ho già l'ansia appena succede qualcosa io l'ansia viene a galla subito allucinante e quindi niente non so che percorso inizierò con lei non so non so se sarà la cosa buona cioè una cosa giusta da fare però mi sento il dovere di fare una scelta in questo momento voi vi chiederete che scelta bella domanda vedremo appena finisce questa quarantena potrò vedere cosa fare realmente se continuare il percorso di adesso o magari cambiare e andare da un'altra parte quindi dovete aspettare la quarantena per sapere bene di cosa si tratta però comunque se questo percorso con lei è diverso di sicuro io non è che mi fermo qua perché comunque andrò avanti tecnicamente quindi penso che farò anche qualche lezione a parte magari da sola non con Scarlett andare avanti che io vado avanti però continuo a stare con Scarlett e fare un percorso diverso con lei e poi di sicuro provare cose nuove in questo obiettivo andare avanti ma provare anche cose nuove magari sperimentare un po' di cose io proprio una cosa mia e una cosa che voglio fare assolutamente quindi magari vado a fare qualche lezione una disciplina diversa mi piacerebbe tantissimo il quinto obiettivo e l'ultimo è cominciare a concretizzare un mio sogno allora questo sogno più che sogno vabbè penso che penso spero che possa essere il mio futuro oddio che paroloni però vabbè non penso che si concretizzi adesso però cominciare nelle piccole cose quindi magari appena con più di 18 anni quindi l'anno prossimo magari iniziare qualche corso particolare con i cavalli fare cose divertirmi comunque a fare cose costruttive come posso dire studiare qualcosa fare magari qualche corso come ho detto e iniziare a pensare a questo mio futuro perché spero spero si può concretizzare tra qualche anno spero tantissimo spero tantissimo perché almeno io non ho più il peso di decidere cosa devo fare cosa non fare se sto facendo bene se lo sto facendo male e invece magari non attaccarmi magari a quello che pensano gli altri oddio cosa penserà l'istruttore cosa penserà questo e quindi pensare più che altro a quello che voglio io è quello che ha bisogno la cavalla quindi sono abbastanza come posso dire spero tantissimo di questo futuro spero tantissimo e niente questo era un video abbastanza wow detto un po' di cose non pensavo neanche di poterle dire queste cose sinceramente però vabbè vedete una persona diversa non so non Giulia ma non lo so e niente spero che il video vi sia piaciuto mettete like commentate iscrivetevi attivate la campanellina così sarete attivi su tutti i video che farò prossimamente e niente ci vediamo al prossimo video ciao